17 maggio 2023, i leader del G7 discuteranno al vertice di Hiroshima, Giappone su come creare le condizioni adeguate affinché le parti in conflitto in Ucraina si siedano a negoziare. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca Jake Sullivan. Sullivan ha detto ai giornalisti, a bordo dell'Air Force One in rotta verso il Giappone, che i leader dei paesi più industrializzati del mondo discuteranno della situazione in Ucraina e delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale. Parleranno anche della ricostruzione, del sostegno economico e umanitario all'Ucraina e di come stabilire le giuste condizioni, per dare forma a un eventuale tavolo negoziale. Praticamente come si legge nell'ultima parte delle parole riportate, gli avvoltoi caleranno sull'Ucraina, il paese più corrotto dell'Europa, per ricostruirla foraggiando i vertici politici ed economici, e prevedendo notevoli guadagni per se stessi.